...oscuro e azzai più generoso. Sai, a questo tempo, qualsiasi essere colpito, sarebbe arreso con una regolazione del mare. Non sei a questo momento, maestro. Non provarci. Il vostro odio potrebbe avere un uomo. Il mio alleato è la forza. E un potente alleato, vi sai. I vostri trucchi benvenuti non sono... ...sì. In arme voi mi credevate. No. No.